Non si arresta il fenomeno delle truffe in territorio cilentano. Secondo alcune testimonianze, due persone si aggirano per il comune di Castellabate con la scusa di vendere per conto delle parrocchie calendari raffiguranti Padre Pio. Si tratta della nuova trovata di ignoti per truffare le persone, in particolare gli anziani, soggetti più facilmente influenzabili e facili da raggirare, ai quali estorcere del denaro. A segnalare la problematica attraverso ai social network il parroco della chiesa di San Marco Evangelista del comune di Castellabate, Don Pasquale Gargione. Non si tratta del primo stratagemma adottato dai truffatori per mettere a segno i loro piani, che troppo spesso vedono come bersagli i soggetti più vulnerabili. Più volte infatti si è sentito parlare di truffatori che, con la scusa di dover consegnare pacchi per figli o nipoti con pagamenti in contrassegno, in veste di falsi corrieri, convincono le loro vittime a farsi rilasciare denaro. Oppure, spacciandosi per falsi addetti all'installazione di pannelli fotovoltaici, falsi ispettori Enel raggirano le loro vittime al telefono, spingendole, non consapevolmente, ad accettare falsi contratti. In ogni caso, si invitano tutti i cittadini a prestare la massima attenzione ed eventualmente di segnalare il caso, chiamando immediatamente i carabinieri al numero 112.